Voi due, venite qua, e allora tutti quanti insieme, uno, due, tre, vai! Torriamo come prima, vai, vai! E allora, vai, vai, iniziamo, via! No, no, non è fermata ancora, ma che fatti? Suzie, alza il volume, torniamo, vai, vai! Take us the light away, live your life and stay among the children! Vai ya, dai, bru, insieme! Bello come, 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 come. Sì, questo è il suo gruppo di famiglia. E' un gruppo di famiglia. Allora, ci siamo? Allora, ci siamo? E noi cominciamo, via! Ehi, ehi! Stop! Vai, ecco! Oh, abbassa il volume Susy. Allora, chi è arrivato l'ultimo? Eccola qua, Paola! Paola è trinettina! Venite qua! E allora, 3, 2, 1, via! Vai! Allora, il centro non è quello Susy. Non staccato volero. En resultato, ci siamo? tiny. E allora, qua in te aika... N'ti solamente nel numero 1 inquieto, Uno le monde, due la attrazione? Clicciid n'è la password? Tutti su? Tutti sui dei nomi non posso sutimate? Va? Tipo di vento. Il pedo 2 digro! Sì, e allora, adesso, sulle mani, adesso, donne sulle mani, e dovete, guardiamo davanti il profilo, e dovete, facciamo come prima, a destra però, portate le mani. Sì, sì, si, si... ecco, 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 loro due, loro due sono arrivati gli ultimi, allora, uno, due, tre, torniamo, vai, ricominciamo, alza a fondo, ecco, 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 ec Sì! 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 1, 2, 3, ciao, 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 ciao.